salve amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale prima di cominciare come al solito voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo un uomo nota un'apertura sul tronco di un albero incuriosito l'uomo avvicina la telecamera al tronco e nota in quella piccola apertura qualcosa di veramente impressionante l'uomo riprende la piccola apertura del tronco e al suo interno sembrerebbe intravedersi un volto potrebbe essere questo uno dei tanti casi di paridolia il video seguente è stato ripreso da una telecamera di sicurezza installata in uno studio dentistico mentre la dottoressa sta curando i denti alla paziente si allontana per un attimo la paziente rimane sdraiata dopodiché incominciano ad accadere delle cose davvero strane il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento FIN ho Grazie a tutti. Grazie a tutti. La foto è stata scattata da una fotocamera durante una perlustrazione da parte di un poliziotto. La foto mostra il poliziotto sceso dall'auto. Dall'altro lato della macchina si intravede quello che sembra essere la figura di uno spirito. Il poliziotto sembra non accorgersi di quella strana figura che rimane lì ferma ad osservare il poliziotto. Questo filmato mostra l'apparizione del fantasma di un gatto. Sembra che lo spirito dell'animale riesca a rispondere ancora al richiamo della padrona. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. Questa foto è stata scattata da una guardia di sicurezza. Nella sua postazione di vigilanza sembra che la guardia abbia intravisto qualcuno al suo interno e abbia scattato questa foto. Nonostante oltre alla guardia non ci fosse nessuno sul posto, sulla foto rimane impressa questa figura. Un uomo è perseguitato da uno spirito che infesta la sua casa. Sembra che l'entità abbia un'attrazione particolare per alcuni giocattoli. Il video seguente mostra l'apparizione di uno spirito al di fuori di una finestra di una casa. Alcune ragazzine, mentre tentano di uccidere uno scarafaggio, non si accorgono che qualcuno dalla finestra li sta osservando. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a vedere il documento. L'ultimo filmato mostra alcuni studenti che dopo aver giocato con la tavola Ouija hanno incominciato ad avere dei grossi problemi. Una delle loro amiche ha incominciato a comportarsi in un modo strano. La ragazza ha incominciato ad urlare e poi ad avere delle convulsioni. Come se non bastasse, la ragazza comincia a fare qualcosa di veramente spaventoso, che terrorizza tutti i presenti. Il video è davvero impressionante. Questo è ciò che è stato filmato. E anche oggi siamo arrivati allo termine, ragazzi. Il video finisce qui. Fatemi sapere nei commenti il vostro parere su questi filmati. Io vi saluto e come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao! 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 Ciao!